Buonasera, va ora in onda per la serie televisiva I Bellissimi, il film un cazzato per due a manata. Avvisiamo i telespettatori che per causa tecnica il film verrà trasmesso al rallentatore. Vi auguriamo una buona visione. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Buonasera, 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 buonasera oh 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 1, 2, Grazie. Grazie. Oh, shit. Da niente. Grazie.